C'è cazzo il pesce. Clemson, oggi le cose saranno un po' più complicate. Dovrete penetrare in un'area controllata dai Covenant. I marine ci hanno già provato senza successo. Per riassumere, gli ordini sono questi. Se si muove, sparategli. Da dove arriva quello scudo? Eh, un attimo. L'allievo energetico del pianeta è considerevole. Strano. Alla Clemson non serve un'analisi. Ne basta un bersaglio più spazio. Va bene, Comandante. Controllate quest'area, Clemson. Vedete cosa trovate. Signora, gli ultimi bersagli. Sorgente energetica nelle vicinanze. Sarà meglio che Clemson dia un'occhiata. Punti di navigazione. Ecco fatto. Scudo eliminato. Come prima, Clemson. Dovete superare quello scudo. Dovete superare quello scudo. Come prima, Clemson. Ciao. Sorgente energetica. Grazie a tutti. 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 Miller, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.